salve salve a tutti cari amici benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91 io come sempre sono Fabrizio ed eccoci qua in uno di questi miei video oggi ragazzi innanzitutto volevo fare una piccola introduzione perché come potete vedere insomma qualcosa è cambiato perché per il mio compleanno che è stato pochi giorni fa ho ricevuto in regalo una bellissima videocamera con la quale posso finalmente registrare in maniera più tranquilla e magari avere insomma un video tra virgolette migliore chiedo scusa se tante volte nell'inquaduro a volte adesso basso gli occhi perché devo ancora insomma abituarmi a questo fino adesso sempre io sono ben o male col cellulare quindi è tutta un'altra cosa però ragazzi così è meglio effettivamente detto questo ragazzi oggi è il grande giorno oggi ragazzi si parla dell'uscita sicuramente più attesa del mese una uscita immancabile assolutamente una di quei acquisti che noi amanti di fumetti non ci facciamo scappare mai ed è una di quelle insomma fondamentali che non può non essere assolutamente acquistato non può non essere non può far parte di nessuna libreria deve essere estranea a questo recupero perché quando si parla di questo personaggio e quando si parla di dell'albo speciale più atteso dell'anno quello che esce una volta l'anno quello secondo me tra tutte le uscite di questo personaggio è quello un po' più che ha insomma un po' più di di attesa di trepidazione è quello che ci vuole più tempo a fare perché ogni volta che insomma ci viene portato ci porta sempre un'opera quasi sempre magistrale secondo me ed è uscito il texone di Giampiero Casertano questo questo io già l'ho diciamo l'ho letto se può dire ma mi manca poco per film di leggere ma insomma ne ho letto già più di metà e ragazzi è una storia spettacolare c'è poco da dire è veramente uno l'ennesimo texone bello perché io insomma ne ho un po' e ne ho letti abbastanza ne ho letti un bel po' ne ho letti tutti alcuni mi mancano la lettura ma ragazzi questo di Casertano è uno di quei di quei lavori che sicuramente meno l'acquisto come tutti i texoni è l'acquisto più bello più bello che c'è insomma l'acquisto dell'eroe più bello l'eroe più bello che c'è del personaggio più bello in assoluto dell'inarrivabile tex e quindi non si può non acquistare all the south con appunto i risenti del maestro di Giampiero Casertano io poi soprattutto non posso tirarmi intero all'acquisto perché Casertano nella sua carriera ha disegnato il mio dirandocchio preferito cioè il memoria dell'invisibile quindi ragazzi copertina dall'altro molto molto bella ai testi c'è c'è Ruiu allora per quanto riguarda ai testi sì ce l'aspettavo perché Ruiu è un po' che sta lavorando su tex io mi aspettavo non mi aspettavo non lo so forse avrebbe preferito anche uno scrittore diverso senza dogliere niente a Ruiu perché Ruiu sta facendo molte storie ultimamente per tex ha fatto anche il texone e scusate no ha fatto anche il maxitex sta lavorando moltissimo non è la cosa che mi dispiace però forse mi aspettavo qualcun altro ai testi invece no gli danno a fidare lui la storia è bella non c'è assolutamente nulla da dire perché è veramente bella allora vabbè ragazzi il texone ha ovviamente il suo fascino si apre ragazzi ah dico subito un'altra cosa la dico subito perché ho già sentito il rumor ah costa 10 euro ah perché ragazzi se in realtà non costa 8,90 ma costa 9,90 ci sono gli aumenti ragazzi io l'euro non lo cioè sono sincero quando si compano queste cose l'euro non lo guardo certo se mi si era addoppiato il prezzo ci pensavo però se è un'uscita che voglio avere in mitarnamente se è un'opera che secondo me vale la persona non guarda il prezzo ragazzi poi certo se ognuno può fare come gli pare questi soldi però ragazzi secondo me l'euro non mi cambia niente sinceramente per opera del genere cioè non lo sento mentre lo sto leggendo non è che cioè a me l'euro in più sinceramente non me ne frega una beata minchia lo dico lo dico chiaramente ne ho sentito il rumor quello e quell'altro io certo pagandolo 10 euro magari cerco io cerco di acquistarlo che sia scusate è un video con la telecamera vi do abituare che sia perfetto anche nei vedete qui io guardo anche la scolatura lo guardo lo voglio perfetto perché comunque 10 euro sono 10 euro però li pare ragazzi un'opera che c'è quando la leggi ti dura e poi ragazzi è un'opera d'arte chi ama il fumetto non può dare rime cioè chi chi ama il fumetto in tutte le sue forme il texone lo compra vuole se dice io il texone lo compro e fai male perché il texone è un capolavoro a priori detta così com'è quindi che è un acquisto obbligato non c'è niente da dire è così punto poi se non lo comprate è peggio che voi vi fate male voi che non avete il texone io ce l'ho peggio che voi se non lo acquistate io dico sempre quello che penso quindi abbiamo una guerra senza eroi che è la prima introduzione poi abbiamo ovviamente il ciamperò casertano e il fabbricante di masche cioè come sapete nei texoni in base ragazzi mi do abituare in base ai disegnatori che vengono elaborati c'è ovviamente le interviste le approfondimenti che sono importanti e non sono la sottovalutare c'è ovviamente l'intervista perché insomma chi come conosce casertano sa che ha lavorato appunto per The Undog ma anche per Nick Rider per Martin Mysterio insomma se non lo conoscete avete da che praticamente farvi un'idea una cultura eccetera eccetera perché guardate qui che spettacolo quello che c'è quindi insomma tanta roba anzi no tanta tantissima roba poi abbiamo per un pugno dei lingotti di Luca Barbieri ecco qua l'ennesima introduzione eccola qua e poi si vediamo un po' si vabbè quasi va avanti nella storia c'è abbastanza poi c'è il papà dei Dex soggetto sceneggiatore eccetera eccetera già lui ci puoi e lo sapete il creatore grafico l'immancabile l'indimenticabile Aurelio Calerpini lo sceneggiatore di questo speciale abbiamo già detto tutto e lo sceneggiatore scusate di questo cioè Ruiu e lo diseggiatore che si becca il texone e che se l'è meritato direte di cosa parla la storia ragazzi la storia è lunga quindi vi posso dire vi posso a parte che la sto ancora leggendo mi mancano mi mancano ancora una una sessantina di pagine però diciamo così si riparla un altro infatti mi è piaciuto molto perché c'è si riparla ancora di guerra civile perché praticamente la storia inizia con questi suddisti che stanno scappando e hanno quest'oro che nasconderanno in questo cannone ragazzi i disegni sono veramente qualcosa di eccezionale sono veramente spettacolari i disegni sono veramente spettacolari c'è poco da fare ragazzi casetta non maestro assoluto questo texone è un capolavoro lo dico io adesso che sto alla lettura io gli do c'è un sette e mezzo pieno e quindi abbiamo questi suddisti che stanno scappando e hanno questo questo oro che nasconderanno in questo cannone il titolo è sold out il titolo è all south perché praticamente si rifà questa cittadina al confine in un territorio apache infatti molti anni dopo diversi anni dopo i nostri due parts il nostro il nostro kit il nostro eroio più bello che c'è affiancato dall'immancabile kit carson saranno protagonisti c'è anche questo indiano che si chiama letal se non sbaglio e poi c'è anche lo sceliffo che è protagonista anche se vabbè non vi dico cosa gli succede se no se no ragazzi vi chiedo scusa la telecamera vi devo abituare perché ha una in qualora diversa quindi se vado a destra mi fa a sinistra ecco il nostro tex e che quindi allora devo dire che questa storia per la reborazione per come ci viene raccontata narrata anche disegnata in certi punti addirittura mi ha ricordato una delle storie più bea di tex che è tra due bandiere quella ambientata nella guerra civile non lo so a questo rimando anche se non c'entra perché la storia è diversa però quando si parla di guerra civile quando si parla di poi devo dire un'altra cosa ma questa è una mia è soltanto diciamo una mia cosa che forse potete condividere o no a volte mi è sembrato anche una specie di omaggio a un'impostazione un'impostazione grafica molto simile a quella di Giovanni Ticci un altro ragazzi sapete che sono riviste dell'ordine è la mia storia di tex preferita in assoluto e mi ha ricordato anche Ticci ragazzi in certe cose non lo so poi ditemi voi nei commenti se l'avete letto cosa ne pensate di questa mia diceria se è una mia diceria o no io un po' di Ticci ce l'ho visto ce l'ho visto e non lo so forse non credo di dire del tutto una bagianata però c'è allora poi dicevo un'altra cosa l'azione c'è è abbastanza certo non viaggia a livelli altissimi però c'è è abbastanza ritmata la cosa bella è che non è prolista ragazzi è una storia va veloce si legge quella che poi ripeto ci sono un paio la storia viaggia su due binari però non è una storia diciamo all'abbosè senza dire niente al maestro abbosè di abbastanza prolissa è una storia che si legge con una grande insomma con piacere e amore perché non è carica di vignettoni ecco i primi piani ragazzi questi primi piani sono inconfondibili come li fa come li fa il maestro Casertano ben pochi ci riescono ben pochi poi devo dire che a me ecco questa è una bella scena dell'albo che mi è piaciuta molto insomma ragazzi sicuramente un albo da avere da acquistare sicuramente ha un acquisto obbligato da fare come se ci avessi la pistola dietro la schiena se si parla di fumetti non si compie il texone che è uno degli uno degli albi più attesi dell'anno ragazzi vi devo fare anzi vi dirò tra quelli uscì degli ultimi anni l'inesolabile e l'altrano uscì quello di oddio la vendetta delle ombre quello era molto particolare però tra i tre ragazzi questo è quello con tutto quello di villa è un cavo lavoro però a gusti personali qua si parla di guerra civile a me quando si parla di guerra civile di cos'è a gusti personali è quello che fino adesso mi è piaciuto di più senza dobbiamo niente all'inesolabile che sulla carta è quello più bello oggettivamente e quello più bello è quello oggettivamente a gusti personali questo mi è piaciuto molto di più però sono gusti personali che tutti quanti voi mi direte ah però è villa 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 e a me piace questo che vi devo fare la cosa bella di ognuno di noi è che ha i propri gusti nel frattempo io devo abituarmi ancora con l'altra di camera quindi vi chiedo scusa ragazzi però insomma come potete vedere c'è più adesso i miei video hanno più qualità hanno più qualità mi devo abituare perché guardare fisso in camera a volte non sono abituato comunque ragazzi io vi sto mostrando tante tavole e ve le sto mostrando anche abbastanza dettagliatamente però ragazzi basta anche perché sono più di 10 minuti che sto parlando non voglio farla tanto lunga perché ragazzi però non si può ripeto non si può non acquistare il texone quindi andate in edifico l'ho acquistato l'ho cacciato questi 10 euro perché li valgo tutti perché poi mi direte ah avevi ragione meno male che l'ho acquistato perché se io sto a dare letta tutti quelli che mi dicono non comprare fumetti non leggerei mai perché la maggior parte mi dice anche io a volte però comunque li compro lo stesso però se io sto sentendo tutti quanti quelli che dicono ah però io non lo voglio acquistare ah perché costa troppo c'è la fine 890-990 cambia l'euro costa troppo se la tua passione con euro casca non è vera passione c'è la passione abbastanza guardate che bello che spettacolo c'è la passione abbastanza va abbastanza al vento perché se ti basta un solo euro un solo euro da un aumento per fartela andare via insomma che passione c'è il conto mi dice il doppio aspetto un po' oppure capace pure che lo compro quale se mi sembra del chicchierone guardate che bella questa fuoco io sono arrivato a leggere qui vicino scusate mi sbaglio la tavola è questa qui guardate che bella quindi ragazzi io non ho veramente nient'altro da dirvi se non che questo ripeto per l'ennesima volta e poi la finiamo qua che questo texone è imperdibile va acquistato senza si e senza ma che mi è piaciuto molto che ripeto la ripeto la storia va abbastanza va abbastanza bene io adesso devo finire di leggere ora diciamo bene o male questa è quindi ragazzi finalmente è uscito io l'ho acquistato con un gioco di ritardo perché in realtà è uscito due giorni fa io l'ho preso praticamente stamattina non vedo l'ora di iniziare di dimostrarvelo per consigliarvi l'acquisto prima però potete un po' di lettura su queste cose qui che costano un po' di più se poi dopo lo consiglio magari magari neanche a gusti persona buona magari manco l'ha fatto il pazzo poi se la faccio non vuoto ne leggere insomma per farmi un'idea ed è mezzo capolavoro per me un sette e mezzo grande lavoro di lui Casertano non sono io che devo dire chi è perché la sua carina parla da solo ha disegnato il mio di andocchio per finire l'assunto un membro dell'invisibile quindi ragazzi ha fatto tante opere e finalmente anche lui può dire di aver fatto una lunga perché ne ha fatte altre ma questa è una lunga il texone soltanto per veri amanti per veri amanti del fumetto per veri intenditori del fumetto perché il texone è un appuntamento impertibile quindi ragazzi io non ho veramente nient'altro da dirvi se non che ringrazio sempre gli iscritti che danno sostegno a questo mio canale ringrazio i nuovi iscritti che si sono aggiunti di recente al mio canale fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate anche di questa nuova telecamera che spero che sia meglio rispetto ai video che faccio di solito però non è che l'ho preso tanto per una comodità perché almeno ho più tempo per registrare posso parlare con più calma perché di solito prima dovevo andare un po' più veloce perché poi dovevo tagliarlo rimontarlo invece così ho un po' più di libertà per parlare con calma quindi se devo dire una cosa magari se voglio soffermarci un po' di più lo posso fare il motivo per cui ho questa telecamera è questo perché almeno faccio il video dico quello che devo dire con calma e poi lo carico direttamente senza dover fare tagli eccetera perché a me come sapete fare mi piace parlare come se stessimo a un bar a un caffè a fare due ghiacchi in un monto a un metto musica eccetera perché mi piace parlare in prima come se stessimo a un bar e mi dici che ne dici del texone e io te ne parlo quindi per essere amici se io faccio cosa ogni volta come l'imbriaco quindi basta ragazzi detto ciò come al solito devo fare le solite cose per far sì che il mio canale insomma continua a esistere mettetevi piace se vi è piaciuto mettete dislike se non vi è piaciuto ma se non vi è piaciuto perché non vi piace il texone quindi mannaggia a voi commentate ditemi qualsiasi cosa e iscrivetevi al mio canale se siete interessati nei miei video e come sempre oggi lo facciamo con la nuova telecamera ci vediamo al mio prossimo video